Mobili, divani, pezzi di cucine, frigoriferi e ancora materassi, sedie, pareti doccia e chi più ne ha più ne metta. Le immagini che vi mostriamo ai limiti di una discarica a cielo aperto arrivano direttamente dagli spazi comuni tra le palazzine Ater di via Damoli 48 a Collaterrato Basso a Teramo. Gli assegnatari dei 32 alloggi popolari stanno via via rientrando per quanto a fatica nonostante i disagi ripetutamente denunciati e divenuti punti all'ordine del giorno nei ripetuti incontri tra Ater e Comune di Teramo. Su tutti resta aperto il problema degli arredi ritrovati danneggiati al momento della riconsegna delle chiavi a novembre scorso e per il quale gli inquilini dialogano tuttora con l'Ater per sapere i termini di un possibile risarcimento o almeno di un contributo per riacquistare una parte di cucina e mobilia. Sono trascorsi i mesi della riconsegna delle chiavi tra proteste e sopralluoghi tecnici ma anche politici anzi pre-elettorali con tanto di un passaggio in Consiglio Comunale. Ad oggi in via Damoli la situazione è questa, i mobili vecchi o danneggiati via via vengono accatastati fuori sotto i palazzi. C'è chi sta provando ad arrangiarsi sistemando il salvabile in casa pur di non pagare più l'affitto lì dove ha vissuto finora soprattutto senza avere più un CAS. C'è chi entro fine mese conta di rientrare definitivamente, altri lo hanno già fatto come confermano i panni stesi al sole che è tornato a vivere in via Damoli però non lo ha fatto perché è tutto sistemato e perfetto. La ditta esecutrice dei lavori post-sisma intanto va detto ha onorato l'impegno assunto ed è intervenuta per completare alcune rifiniture interne alle abitazioni e che erano state oggetto di doglianze. Il problema vero oggi resta quello degli arredi. L'Ater, come chiesto dal Comune, attende la compilazione di una scheda su cui ogni inquilino deve riportare tipologia e valutazione del danno subito e l'ammontare di un rimborso accordabile, schede che dovranno arrivare entro e non oltre il prossimo 15 aprile quando ci sarà un nuovo tavolo tra Ater, Comune ed Inquilini. Il clima sembra essere meno teso tra le parti, in attesa però che si ripuliscano questi spazi comuni magari con un urgente ritiro forzato da parte dell'Ateam.